Benvenuti a Viareggio Porto 2020 Raccontare Viareggio non basta un'intervista, raccontare Viareggio si racconta una città meravigliosa io che non ci abito ma ho chiesto la cittadinanza all'orario, spero me la diano chi non viene a Viareggio non può capire che tipo di attrattiva questa città tantissime iniziative, Carnevale, Pucciniano, noi che facciamo tantissime iniziative quant'è bella la Madonnina all'alba e al tramonto, io credo che soprattutto al tramonto penso che non ci sia luogo in città bello come questa a questo punto che dire, vi aspettiamo Viareggio Porto 2020 venite, troverete soddisfazione per ogni vostra esigenza